Fantin, Negro, Giannetti, Ziosi al gate. Let's go! Si abbassa il cancelletto di partenza e immediatamente al comando l'atleta del Ciclomania Racing. Tabella 7-3-4, Pietro Crosara, Crosara al comando e poi c'è il Besnate, Manuel Fantin con Ziosi, due compagni di squadra del Besnate. Ma c'è anche il Creazzo che si infila in terza posizione, Tommaso Negro, attenzione, bella bagarra anche per questa batteria numero 53 della categoria dei G2. Col 7-3-4, Crosara con 2-6-5, Ziosi con 6-120, Tommaso Negro. Batteria numero 54, G3, G4, saliamo di categoria, Clerici Raccagni, Nanut Boskin.